fratelli bianconeri e sorelle bianconere questo è un contenuto specialissimo io sono chiuso è stata una giornata intensa e non è ancora finita sono chiuso nel mio mondo virtuale di tuttoyue.com Radio Bianconera a far contenuti per il canale YouTube Facebook Instagram X Trez TikTok chi più ne ha più ne ha devo anche chiudere andando in televisione a 7 gold a discutere a dibattere sul calendario ma io oh oh Camillo De Michelis in Laguna il Festival del Cinema di Venezia ha inviato speciale per noi e posso mancare questo appunto ma guarda guarda sembra Brad Pitt va che roba va che roba ciao Claudio sono contento che il mio outfit ti piaccia e poi ti vorrei far vedere le mie scarpe di cui vado molto orgoglioso ma non ho più l'età per fare delle delle apriole per farti vedere la scarpa ma ti assicuro che rendono tutto ancora meglio però insomma ci tengo a dirlo tu lo sai mi ringrazio anche te che sei il direttore di tutto Juve il nostro editore che abbiamo permesso di venire qua perché è quello che abbiamo visto nel video Fragili nella produzione creata dall'Uventus Creator Lab totalmente creata dall'Uventus Creator Lab è qualcosa di molto emozionante non posso fare spoiler perché l'ho vista in esclusiva però ti posso dire Claudio che in alcuni momenti mi sono emozionato in altri perché voglio essere sincero e onesto quando si parla di ludopatia mi sono spaventato perché diciamo una cosa Camillo è stato seguito Nicolino Fagioli in tutta quella che è stata la sua riabilitazione quindi si racconta una storia di campo unita all'extracampo dimmi ovviamente non puoi spoilerla bisogna vederla perché merita ma dici i due momenti cioè quelli che ti hanno fatto tra virgolette arrabbiare sei medesimato nella carriera di Nicolò e hai detto ma guarda cosa ha combinato a cosa è andato incontro e il momento invece è magari più emozionante ma guarda quanto senti le somme e il percorso magari dove chiudi dove un click ma un click per magari 5-6 ore ti può rovinare la vita mi fa paurissima veramente paura perché un attimo tu non te ne rendi conto perché sei un privilegiato e in un attimo rischi di perdere tutto e due aspetti molto belli concedimi la doppietta qua e ti dico uno la Juventus che permette a Fagioli di avere una seconda vita in campo ma una seconda vita proprio una seconda vita in generale perché perché ti dà l'opportunità ti sta vicino come una famiglia e ti dice ok io ci sono tende la mano a Fagioli e permette al giocatore di tornare a essere un calciatore ma di tornare a vivere senza le preoccupazioni per quello che avevi fatto perché non è sempre così quando parliamo di ludopatia e poi vabbè la sua famiglia e le emozioni del ritorno in campo credo che possa far emozionare chiunque perché dietro alla fragilità e alla sofferenza di Nicolò c'era la sofferenza della famiglia c'era la sofferenza degli amici c'era la sofferenza della fidanzata e quindi dico in tutto questo c'è anche un po' un briciolo di lieto fine perché lieto fine ci sarà quando realmente riuscirà a superare al cento per cento anche se il professor Paolo Giarra ha detto che la ludopatia non si riesce mai a superare al cento per cento si può combattere si può evitare di cadere di nuovo nell'errore ma è qualcosa che comunque rischia di tentarti e quindi ovviamente il lieto fine sarà quando non avrà mai più quella tentazione ma è un inizio di percorso questi sette mesi non è la fine di un problema ma è la consapevolezza di poter vivere anche senza queste difficoltà guarda io comprendo benissimo perché sono stato vicino voglio dire a cosa vuol dire essere magari presi da quella situazione seppur nelle nostre vite a livello basso dal punto di vista economico rispetto a quello che può vivere un calciatore però il meccanismo è lo stesso quando sei lì che fai refresh refresh perché stai su un live per vedere come cambia il risultato vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi bisogna tenerlo sempre presente e complimenti all'Adi Juventus che ha creato questo docufilm su quello che è stato il percorso di Fagioli perché deve assolutamente servire ad esempio ai ragazzi che anche magari senza quelle capacità economiche però si trovano in quelle situazioni senti Fagioli non era lì ovviamente perché è nazionale insieme a questa nuova opportunità anche con la nazionale ti chiedo allora dopo Juventus Roma parlando di Nicolino che ha fatto il centrocampista titolare in queste prime tre partite parlando invece di quelli che torneranno a essere reduci da infortunio vedi Turam e vedi ancora da non titolarità come Douglas Lewis secondo te in questo momento come vedi Fagioli in campo cioè lo vedi titolare lo vedi riserva perché arrivano gli altri ma in questo momento non so dirtelo l'ho visto bene però io sono uno di quelli invece non ho visto sempre ho voti stiracchiati su sei o qualche insufficienza addirittura per la partita con la Roma invece io onestamente ho avuto questa sensazione sarà che puoi vedere la partita in un modo e vederla a casa e un altro vederla allo stadio sicuramente quel modo lì diverso che a me piace io credo che vedere la partita allo stadio ti apra degli sviluppi che vedi poco magari dalla televisione perché è più stretto e ti dico che a me è piaciuto per la solidità con cui è riuscito a affrontare questo ruolo perché è una Juve dinamica è una Juve che va in avanti è una Juve che ha bisogno però di equilibrio all'indietro e sai Claudio quando c'è la porta per fare gol è facilissimo andare a correre quando già correre all'indietro è più difficile quindi ti dico ad oggi a me è piaciuta molto la stabilità che ha dato Fagioli al centrocampo della Juve insieme a Locatelli quindi per quanto mi riguarda potrà essere uno dei titolari se non un titolare aggiunto ma io mi immagino con magari Turam ancora non al 100% con la partita col PS1 in Dove quindi una partita di livello ti dico Fagioli titolari Fagioli titolare perché credo che in questo momento riesca a dare quell'equilibrio in più alla Juventus rispetto a tanti altri anche nel secondo tempo quando c'è stato il cambio il doppio cambio Douglas Lewis McKennie io credo che abbinato a Cone della Roma che mi ha impressionato dal vivo che è riuscito a vincere un paio di duelli e quindi a portare la palla di là ad alzare il baricentro della Roma ecco invece Douglas Lewis e McKennie insieme li ho trovati disordinati soprattutto nella fase difensiva e questo ha generato magari gli ultimi dieci che forse è la parte di più rammarico della partita perché lì pensavi di poterla vincere sentivi la partita dalla tua parte almeno per quanto riguarda il baricentro e non hai fatto poi nulla anzi alla fine ti sei poi rinchiuso nella tua metacampo quindi ho preferito la coppia Locatelli fagioli rispetto anche a Douglas Lewis McKennie allora tu sei di alto livello rispetto a me in questo momento dal look dal romanticismo dell'immagine che c'è dietro le tue spalle io sono qua nella scatola della redazione quindi sono più da battaglia ti riporto con i piedi per terra perché qua il pubblico si sta dividendo tu lo sai il tifoso della Juve dice ma come ma come 50 milioni per Douglas Lewis e poi giocano fagioli Locatelli ma io in questo caso qua ti dico che la fretta non aiuta mai nessuno mai ma proprio mai mi ricordo un Vidal che non è partito subito di isolare mi ricordo qualcuno che si è finito al naso quando Conte l'ha messo al trofeo Berlusconi esterno di destra e quindi credo che sia giusto sempre capire io non sono per niente e dico per niente stupito da Douglas Lewis non titolare in questo caso perché perché viene da un campionato completamente diverso e poi questo è il mio cavallo di battaglia viene da un campionato che tatticamente rispetto alla Serie A vale poco perché la Premier League se non è giocata ad altissimo livello quindi Guardiola o altri allenatori sicuramente non Tenag se non è giocata a quel livello lì alto hai delle difficoltà in Italia a livello tattico e tu a livello tattico devo un po' imparare io su questo piano ti seguo no 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 ti seguo all'infinito su questo piano e allora ti chiedo hai un minuto per convincere me e tutti quelli che in Juve e Roma hanno visto un po' la laguna cioè la Juve che ha frenato in una partita noiosissima che cosa c'è di diverso rispetto a uno 0 0 noioso dell'anno scorso beh c'è che la terza partita che non è un processo di tre anni che è un gruppo nuovo che qualcuno è tornato con i piedi per terra qua sta passando un razzo qualcuno è tornato con i piedi per terra perché Bangula è tornato ad essere in Bangula che faceva magari un pochettino più fatica con la next gen quindi ti dico io ho intravisto un bel secondo tempo ho intravisto delle dichiarazioni cui ero d'accordo con Tiago Motta frenesia questa squadra è una squadra generosa che voleva a tutti i costi regalare una vittoria ed è andata sopra ritmo e quindi ha sbagliato per frenesia e secondo poi si lavora su un'idea e l'idea di Tiago Motta è quella di non rimanere bassi però in tanti anni che ci siamo rimasti molto bassi da un punto di vista del baricentro e col primo tempo molto bassi poi ha detto e si fa fatica se sei 80 metri da porta lavoriamo sul secondo dove con più coraggio eravamo lì vicini non abbiamo tanto tirato in porta ma credo sia proprio frutto di quella frenesia quindi le nostre idee non devono essere scalpite minimamente alla terza giornata con un pareggio i paragoni lasciamoli andare che non ci fanno bene noi dobbiamo rimanere compatti sulla nostra direzione che è quella di sostenere la squadra e l'unità di intento senti pronti via purtroppo la notizia di oggi è l'infortunio muscolare per Conseil Sao che si aggiunge a quelli che già ci sono stati ripartiamo con l'Empoli poi abbiamo un tour de force io oggi ho pubblicato il calendario poi discutiamo bene di tutte le date ma Empoli sotto il PSV poi c'è il Napoli e il Genoa questo è il mese di settembre tutte partite ravvicinate Weah, Turan, Milik Conseil Sao secondo te come sono i tempi come rientrano Turan, Weah, Milik e Azic Azic è pronto Claudio quindi ha già lavorato con le scarpe quindi Azic è pronto per me rientrano 4 su 5 Conseil Sao vediamo quando usciranno poi gli esami io ho paura che Conseil Sao possa addirittura saltare anche Napoli Aia attenzione la partitissima ricordiamo con l'Empoli il 14 settembre con il PSV il 17 settembre con il Napoli il 21 settembre ore 18 allo stadion 28 Genova con il Genoa questo è il mese di settembre Camillo nel ringraziarti e salutarti intanto che vai a chiedere un po' di cose perché c'è anche la Juve presente eccetera potresti chiedere per me se Arthur in lista Champions se è soltanto perché c'era un buco così nel dubbio o magari se l'allenatore pensa di usarlo qualche volta no no c'è un buchetto anzi avevamo due due posti tra l'altro ma la questione Claudio è che quando guadagni 6 milioni di euro netti in certo modo in lista ti metto perché comunque fino a scadenza 2026 ed è un problema questo sì è un bel problema vai a studiarti le date perché anche tu lavori con le partite grazie Camillo buon festival di Venezia grazie Claudio